Sono tornato ieri sera dalle zone devastate, dalla tremenda catastrofe sismica. Ho assistito a degli spettacoli che mai dimenticherò, interi paesi rase al suolo. La disperazione poi dei sopravvissuti vivrà nel mio animo. I cittadini sopersiti di un paese dell'Irpinia mi hanno avvicinato, mi hanno detto, vede, i soldati e i carabinieri che si stanno prodigando in un modo amirevole e commovente per aiutarci, oggi ci hanno dato la loro razione di viveri perché noi non abbiamo di che mangiare. Gli italiani devono sentirsi mobilitati per andare in aiuto di questi loro fratelli colpiti da questa sciagura perché, credetemi, il modo migliore di ricordare i morti è quello di pensare ai vivi. Gli italiani devono sentirsi mobilitati per aiutarci, Gli italiani devono sentirsi mobilitati per aiutarci,